Musica Ben ritrovati in questo nuovo video Oggi carissimi amici guardiamo insieme un nuovo 2 euro commemorativo dell'anno 2023 La moneta è italiana, arriva dalla nostra zecca, la zecca di Roma Come tema abbiamo il centesimo anniversario dell'aeronautica militare Facciamo attenzione perché è una moneta molto ricercata Anche se devo dire poi ha una tiratura molto alta e la troveremo in circolazione Andiamo vicino alla moneta più da vicino, è una moneta in fior di cogno Questa che stiamo guardando, fate attenzione Nel centro della moneta troviamo il numero 100 attraversando una scia Dove troviamo in basso un veicolo storico in questa posizione qui E qui troviamo un jet da combattimento in alto, nuovo diciamo di nuova concezione In questa posizione Vengono uniti anche da questa linea d'arco Dove poi troviamo la scritta 1923-2023 Il conio di quest'anno, facciamo attenzione Poi abbiamo il monogramma RI, Repubblica Italiana in alto Dove l'Italia identifica le proprie monete in questa posizione Poi abbiamo la letra R della zecca di Roma in questa posizione qui E poi abbiamo l'iniziale dell'autore VDS Valerio De Seta in questa posizione molto piccola scritta In basso scritta d'arco aeronatica militare in questa posizione qui 12 stelle a 5 punte, stelle molto piccole in questo caso Andiamo a guardare il facciale, il valore nominale che è 2 euro Come dicevo, 2 euro per la circolazione Ne fate attenzione dove ero il filo di conio Ma è un 2 euro per la circolazione Ha una tiratura molto alta perché dovete pensare che questa moneta è stata messa con una tiratura di 3 milioni di pezzi Di qui 2.968.000 pezzi negli rotolini Perciò andrà in circolazione, questa moneta la troveremo in giro Abbiamo poi la divisionale Fondo Specchio La troveremo dentro con 4.000 pezzi In più abbiamo altre 13.000 pezzi in cofanetto Fondo Specchio Dove verrà emesso un cofanetto speciale, fate attenzione E abbiamo anche le coin card che sono in fior di conio che sono 15.000 pezzi Perciò diciamo che da 3 milioni una piccola parte andrà nelle confezioni speciali Tra divisionali Fondo Specchio e coin card FDC Coin card dedicate praticamente speciali Come prezzo in questo momento Il prezzo della moneta in fior di conio se la volete subito Non volete aspettare di trovarla in circolazione A un prezzo di 3,50 euro in questo momento qui Fate attenzione, insomma si trova in tutti i negozi della numismatica Perché è stata distribuita C'è anche una versione in argento Ma di quello ne parleremo più avanti Bene, per oggi è tutto Ditemi se avete già trovata la moneta o se l'avete acquistata Scrivetevi nei commenti E niente, io vi ringrazio Vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video Ciao e grazie a tutti